Di nuovo si scrive a noi Rabash, il mio insegnante, tutte le anime sono attirate dall'unica anima originaria che il Borea ha creato, che è definita, è chiamata il primo uomo, Adam Rishon, che dopo che ha peccato si è diviso da questa anima, questa unica anima, la Nishamma è definita come l'aggiungimento del Borea, quello che l'uomo ha raggiunto, il Borea, questo raggiungimento è stato diviso di 600.000 parti, quello che aveva il primo uomo, l'Adam Rishon, di un colpo, un'unica luce, con l'unico cli, ora si è espanso e divise in moltissime parti e noi dobbiamo raggiungere, ognuno di noi, la sua parte per un gruppo, perché dentro questo gruppo noi ci connettiamo, noi iniziamo a connettere i nostri chelim, e iniziamo anche le nostre luci, fino a che nella decina noi impariamo come connetterci noi stessi, e dopo le decine fra di essi si includono uno con gli altri, si connettono, e così noi stiamo oggi, stiamo per connettere tutta l'anima del primo uomo, di Adam Rishon, parte di essi è già pronta, e l'altra parte noi dobbiamo aggiungere e finire il lavoro, finire questa unione.